Ci troviamo nel presepe creato dalla Proloco, un presepe astratto dove mettiamo i piedi nelle impronte di San Francesco, vedete? Percorrendo fino alla scala si può visionare tutto il presepe, ritorneremo a vederlo meglio perché stasera c'è tantissima gente ed è veramente un presepe stupendo, con tanta passione, tanto amore per le tradizioni. Qua c'è carta pesta, roccia, granito, fontane vere, c'è di tutto, pastori stupendi. Guardate hanno fatto anche una finestra ricamata, lo voglio dire, proprio con le cortecce. C'è un presepe fatto in più punti, vedete? Bellissimo. Guardate che bello il presepe. Poi lì c'è la grotta in fondo e si sale fino alla scala, si arriva ai remaggi. E poi guardate anche qui passiamo sempre, vedete? C'è l'acqua vera che esce proprio come ruscello reale. Un presepe creato nei minimi particolari, guardate ci sono i maiani, hanno realizzato questi sacchetti di canapa, hanno realizzato anche tutte le casette che vedete, le case tutte fatte a mano con arte, perché qui c'è tanta arte in tutto quello che vedete. Muschio, Mr. Rocci, hanno fatto dei cinti. Guardate, bellissimo. Tutte queste case che vedete sono state realizzate da persone che collaborano con l'acrologo Futurosa. Quindi venite a Simbarivo, verso Bertucci, salutiamo e ringraziamo i Bertucci che sono a Roma. Venitevi, non solo vi gustate, vi vivete questo presepe stupendo. Venitevi, non solo vi faccio, non solo vi faccio, non solo vi faccio, non solo vi faccio.